Gli APR verranno identificati? È previsto un registro nazionale e come funzionerà? Gli APR verranno registrati ma non secondo i criteri della registrazione degli altri aeromobili. La registrazione di tutti gli aeromobili rispettano un annesso ICAO, che è l'annesso 7 che riguarda la registrazione degli aeromobili, che viene dall'ICAO. Chiaramente l'attività di droni, scusate se uso droni, ma comunque aeromobili a pilotaggio remoto, non ricade sotto le competenze dell'ICAO, perché l'ICAO fa regole e standard solamente per la versione civile internazionale, che non è il caso di questi mezzi. L'immatricolazione di un aereo, normalmente in particolare in Italia, ha dei requisiti molto stringenti, perché il RAN che gestisce l'ENAC ne garantisce la proprietà del mezzo, perché l'aereo è un mezzo mobile registrato. Quindi per registrare un aereo sul registro RAN vuol dire acquisire tutti gli elementi della proprietà, quindi contratti notarili, anche se questi vengono sottoscritti all'estero. Quando un contratto notarile viene sottoscritto all'estero, è necessario tradurlo in italiano, dobbiamo avere la garanzia che il notaio che ha fatto il passaggio di proprietà in quello Stato aveva titolo a farlo, dopodiché viene registrato in Italia con la proprietà. Questo lo dice l'ICAO. Siccome l'ICAO non è applicabile a questi mezzi, abbiamo utilizzato procedure molto più semplici perché la compravendita di questi mezzi tra uno Stato e l'altro sarebbe impossibile se dovessimo applicare le regole del Registro Aeronautico Nazionale. Quindi abbiamo previsto per i mezzi a pilotaggio remoto inferiore ai 25 kg una registrazione o meglio un'identificazione a carico dell'utente con la posizione di una targhetta sul mezzo aereo e sugli apparati di terra e questo numero di identificazione verrà riportato nell'approvazione dell'operatore aereo. Per i mezzi più grossi, quelli superiori ai 25 kg, prevediamo come ENAC una nostra registrazione che non è quella del RAN, che noi terremo, quindi terremo un registro e l'identificazione di questa registrazione comparirà pure nell'approvazione dell'operatore aereo di mezzo aereo a pilotaggio remoto. Allora quando verrà rilasciata chiaramente. Quando entrerà in vigore il regolamento su mezzi aerei a pilotaggio remoto? Il regolamento a pilotaggio remoto appena lo pubblichiamo sul sito dell'ENAC sarà applicabile dopo 60 giorni. I 60 giorni servono sia per dare la possibilità agli utenti di prepararsi e fare le application, fare le domande, sia perché l'ENAC sta per terminare la stesura della circolare applicativa, perché questo regolamento ha bisogno della circolare applicativa per sapere come si applicano certi requisiti. Questo prenderà un po' di tempo, quindi dentro i 60 giorni pensiamo che sia gli operatori siano pronti e anche l'ENAC sarà pronto con l'emissione della circolare applicativa. Quali azioni di sorveglianza ha messo a punto l'ENAC? L'ENAC metterà a punto un piano di sorveglianza sulle imprese approvate e sarà un peculiare particolare, essendo la prima volta che emaniamo in Italia un argomento del genere, la sorveglianza, l'ENAC l'effettua su tutti gli operatori aerei, ma in particolare dovremmo porre molta attenzione su questi perché è un settore nuovo dove anche noi dobbiamo fare delle sperimentazioni. In particolare questo regolamento abbiamo deciso tra gli obiettivi dell'ENAC, obiettivi interni, di monitorizzarlo in maniera particolare per vederne vantaggi e svantaggi, per vedere se nell'arco di sei mesi o un anno è necessario trasmare qualcosa sul regolamento e quindi rivedere qualcosa. Sicurezza e privacy sono due temi particolarmente sensibili legati all'impiego degli APR. La normativa ENAC può intervenire per garantirne il rispetto? Questi mezzi purtroppo si prestano molto a intaccare quella che è la privacy dei cittadini e su questo c'è molto rumore in tutto il mondo e in diversi settori. Noi nel regolamento abbiamo scritto che bisogna applicare le leggi nazionali e però siamo stati anche contrattati dal garante della privacy in Italia perché deve fornire alla Commissione Europea degli elementi in merito all'applicazione di argomenti nazionali sull'uso di questi mezzi. Noi abbiamo avuto un incontro con il garante della privacy il quale ci ha suggerito una particolare formulazione dei requisiti sulla privacy in Italia in generale in particolare per l'uso di questi mezzi. Quindi il regolamento conterrà un articolo particolare dove si parlerà delle incombenze e quindi a cosa si devono attenere i titolari di questi mezzi per garantire la privacy rispetto ai cittadini. Altrimenti ci sono delle sanzioni ma che non prevediamo noi. Sono previste la normativa nazionale sulla garanzia della privacy. In conclusione, Ingegner Guccini, l'ENAC ha in programma iniziative rivolte all'utenza per favorire l'applicazione del regolamento? Senz'altro, come abbiamo fatto nella fase preliminare di consultazione durante la quale abbiamo organizzato tre workshop con la partecipazione di circa 300 addetti ai lavori, stakeholder, quindi operatori del settore, riteniamo, penso entro gennaio, di fare un workshop invitando tutti i soggetti interessati, operatorieri, costruttori, anche istituzioni e così via, proprio perché stanno arrivando molte domande su questo argomento ancorché è uscito da poco e quindi penso che sia utile un momento di confronto con queste persone quindi più che una conferenza è un workshop quindi anche domande e così via. Comunque per dare delle risposte anche in tempo reale a tutte le necessità degli operatori pensiamo di mettere sul sito dell'Enac anche una sezione FAC per dare le risposte ai vari requisiti che ci arriveranno.